Visto che come diceva Susanna Cavicchi Hoffman anche tante cose Lucrezia ce le ha celate comunque di quelle messe nero su bianco di quelle celate se qualcuno vuol fare qualche domanda Lucrezia è qua per risponderci Io voglio sapere cosa ne pensa il suo ex marito del libro Cosa ne pensa il suo ex marito? Ok, allora io ringrazio Cecilia per la domanda che mi ha fatto Volevo premettere chiaramente un'opera d'arte e sono felice d'arte insomma comunque un'opera letteraria vive di testo proprio per cui è stato liberamente tratto dalla mia autobiografia che chiaramente non è pedisseguamente ricalcata sulla mia autobiografia questo è chiaro, però è vero un ex marito c'è e quindi su questa domanda si può rispondere benissimo mio ex marito è nel suo studio, sta lavorando tranquillamente come se niente fosse accaduto ha ricevuto l'invito, mi ha anche fatto gli incoraggiamenti, i complimenti è contento che mi sono descritto questa testimonianza mi ha ringraziato perché io abbia, perché io ho dedicato Lucrezia ha dedicato il libro al marito e ai figli però chiaramente non è in sala ma il libro l'ha letto ed è contento che l'abbia scritto, questo sì altra domanda? Grazie 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 Grazie